L'allarme era stato lanciato da tempo, stavolta anche i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità hanno confermato che in Campania, in particolare nelle zone della ormai famigerata Terra dei Fuochi, è fortissimo il legame fra inquinamento ambientale, malattie tumorali ed eccessi di mortalità. Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità non lascia spazio a dubbi. Le denunce degli ultimi anni erano state spesso minimizzate mettendo in risalto dati non reali che non disegnavano ciò che i crudi numeri mettevano invece in risalto in tutta la regione Campania. Il Movimento 5 Stelle, in una nota firma del consigliere regionale e componente della Commissione Sanità Vincenzo Veglione, scrive che addirittura il ministro accusava i cittadini campani di cattivi stili di vita. In realtà l'allarmismo era più che giustificato. L'inquinamento creato negli anni addietro il sottosuolo ricco di veleni ha causato un aumento dell'incidenza tumorale in Campania e più nello specifico nella provincia di Caserta, la zona della Terra dei Fuochi, con un tasso di mortalità elevatissimo. Chi denunciava il grave grado di inquinamento ambientale è stato accusato di fare allarmismo. Addirittura ci sono stati ministri che sdegnati hanno negato che in Campania esistesse l'emergenza. Le parole di Viglione. In realtà sono stati molti i politici, ma non solo loro, a teorizzare con convinzione che l'insorgenza di patologie tumorali non fosse collegata all'inquinamento indiscriminato dei rifiuti tossici, ma solo a stili di vita e di alimentazione sbagliati. Il tumore in Campania, e in particolare nelle città toccate dalla Terra dei Fuochi, aggredisce addirittura i bambini già ad un anno della loro vita. I più vulnerabili sarebbero quelli che vivono nelle zone povere e socialmente degradate. Discariche illegali, rifiuti nocivi depositati ovunque, costituiscono, secondo le indagini e il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, una causa dell'aumento della malattia tumorale per gli uomini. L'incidenza tumorale è aumentata soprattutto tra i bambini, gli adolescenti e i giovani. Gli esperti, pur sottolineando che non esiste un'evidenza scientifica che le sostanze nocive contenute nei rifiuti trasmessi da alimenti per poi provocare danni all'organismo, nelle loro conclusioni hanno chiarito che i fattori ambientali possono essere causa o con causa di immortalità e patologie. Di sicuro, l'aumento del cancro tra i più giovani in Campania è determinato anche da mancata prevenzione, cattiva alimentazione, stile di vita sbagliato da parte delle donne in stato di gravidanza. Tra l'altro, rispetto al resto delle regioni italiane, c'è da sottolineare che la media della la durata della vita in Campania è inferiore di due anni. Resta il fatto che nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità si ribadisce con forza la necessità di bonificare i terreni inquinati da rifiuti tossici.